Il libro del sostituto commissario Salvatore Falzone arriva in versione digitale e si può scaricare in formato ebook dal sito questoradelapoliziadistato.it Presentato lo scorso 11 luglio nella sede della Fondazione Sicana per i 170 anni della Fondazione della Polizia di Stato, il libro Questura di Caltanissette e Questori, Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, è stato da subito molto apprezzato agli addetti ai lavori. La prefazione è stata curata dal capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, un testo che celebra e racconta oltre un secolo e mezzo di attività di pubblica sicurezza a Caltanissetta dal 1860 al 2022. Il racconto si snoda attraverso le vicende di Questori, funzionari di polizia, guardie di pubblica sicurezza e agenti che hanno segnato la storia del capoluogo nisseno. Falzone restituisce così uno spaccato della vita della città che prima di questo libro era sconosciuto ai più. Un lavoro di ricerca attento, quello compiuto dall'autore, impreziosito da una parte documentale di atti storici sulla Questura nissena, custoditi dall'archivio di Stato di Caltanissette e pubblicati su concessione del Ministero della Cultura. 53 anni, nisseno, è oggi sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato. La sua carriera ha inizio nel 1987 a Palermo, poi dal 1996 trasferito alla Questura di Caltanissetta, Falzone si è occupato di controllo del territorio, misure di prevenzione personale e patrimoniale antimafia. Nel 2000 presta servizio all'ufficio di gabinetto del Questore. È attualmente responsabile del settore affari generali dell'ufficio per la sicurezza personale dell'ufficio comunicazione della pagina web della Questura, di cui è portavoce. Da anni cura progetti di prossimità della Polizia di Stato, rivolti alle scuole nissene di tutti gli ordini, incontrando centinaia di studenti.